Nella cantina di un palazzone, tutti i gattini senza padrone organizzarono una riunione per precisare la situazione. Loro chiedevano a tutti i bambini che sono amici di tutti i gattini. Un posto al giorno e all'occasione poter dormire sulle poltrone. 44 gatti in fila per te il resto di voi. Buonasera a tutti ragazzi, appena finita la quindicesima giornata di Serie A anticipo di lusso Juventus-Napoli. La Juventus batte anche il Napoli 1-0 nella norma. La Juventus è un po' bello allegro, quel cornuto. La Juventus... Solo la Juventus non può essere un po' bello. Quindi... Che fai un gol... Tutti tre. Purtroppo quello è il gioco. Lui ha ragione sempre perché comunque porta a casa tre punti, tre punti, tre punti... E ha ragione. Primo tempo molto equilibrato. Napoli ha avuto un paio di occasioni limpide. Però ha sbagliato da cara mamma. Vlaovic, come al solito, ha avuto la sua occasione e l'ha sbagliato. Quindi primo tempo 0-0. Più o meno equilibrato. Anche se il Variale... Che è uscito da Chiangela Medona di primo tempo... Un apple meritava tre gol. Ma non. Ma che stiamo bene. Allora, ragazzi. Secondo tempo troviamo il gol con il solito gol dei difensori. Gatti ormai sta davanti a un perno principale della Juve. Tre punti in saccoccia. E andiamo avanti. Finguent tecusa la Netour. Questo è il gioco. Finguent Venge ha sempre ragione lui. Pangellone! Juventus batte Napoli 1-0. 44 gatti in fila per 1 in fila per 2. Scesni sei e mezzo. Ha fatto un paio di parate buone. Stava a fare la frittata con quel passaggio... Praticamente ha fatto assiste a Ossiman. Ma non è che Ossiman stava fuori giù. Però, tutto sommato, ha fatto una buona partita. Se e mezzo. Gatti, sette e mezzo. Uomo, partita. Ma come so di te. Ma non è che altri. Ma chi è? Sette e mezzo. A Gatti, migliori in Gatti. Bremer, sei e mezzo. Alla fine, fra Bremer, Gatti e Danilo. Da Ossiman, compagnia bella. Sì, al primo tempo hanno avuto qualche cazzo. Ma poi non ho avuto più nulla. Quindi, Bremer, sei e mezzo. Danilo, sufficiente. Rientrava dall'infortunio. Io non lo rischiavo. Però lui lo rischiavo. C'è pure Ekmbaradì. Sufficiente Danilo. Cambiasso, sette. Fra lui e McKinney. O Giorgeno. Quando hanno andato e boom. Con qualche falletto. Giustamente. Qualche cosa. Quando hanno fatto pure nervosia. Monito. Quindi, se assist dal gol cambiasso. Quindi, sette ha cambiato. McKinney, sei e mezzo. Che ha aiutato molto il centrocampo. E anche ha cambiato su Borgiorgeno. Locatelli. Costi sufficienti. Niente di che. Rabbiò sufficienti. Beh. Se diceva Lindlind. Beh. Facceva corso Margherita. Alevca. Corso Mbè. La Cappuccione. Sucficiente. Rabbiò. Chiesa, sei e mezzo. L'unico che avanti ha qualche spi. Vlauvi. Quattro meno 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 meno. Perché non è cosa. Suvi capisco. Noi non ho lontanato. Noi non ho vinto. Non ho pensato quando. blastò. Se sembra. E' come. Ho avuto un'occasione d'oro. E' chiaramente. La fallita. Se avevo andato uscita, non mi sono messo in casa marittima. Ciao Vlauvi. Vlauvi. Quattro meno meno. Io non ho già visto cristi. Non ho mai visto il volo. Non ho deciso di portare. Io non ho lo stessoo. All'accordo. Due mesi. E' nuu. Puoi stare qui, puoi stare secondo. non c'è nessuno più, non c'è nessuno tu devi dire solo grazie alla mezzo alla mezzo questo è la madonna dei martiri ragazzi anche qui che sta all'estero è la nostra padrona che è il quattro meno 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 questo crescita è tra l'ottantatresimo sono quando è sette neppi ne decine qui non hanno toccato un pallone Alessandro purtroppo può puo' 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 puoi non l'hai perchè stiamo in barra street 4 più mili 5 perchè sempre quello di scopo fa entrare gli attaccanti per difendersi quindi non giocano e lì Junior Ugan senza voto ragazzi avete fatto una bella immacolata le frittelle la cosa purtroppo noi abbiamo lavorato e rimandiamo le frittelle come ti sembra fino a questo forza a Juve sempre qualche parolaccia vi dovete avere pazienza purtroppo abbiamo chiesto va bene ragazzi saluto a tutti tranne d'allegri come faccio il sangue faccio il sangue faccio il diabete a tracciare ciao ragazzi vediamoci bene fino a queste salute sembra a tutti venerdì di nuovo venerdì Genoa Juventus abbiamo capellini ci dà attenzione per sei corretta di due cazzo malacca bene 742 più 2 e 44 ucciso ucciso